guardate un po' chi è tornato io no no tu no e chi è che è tornato non vuoi saperlo allora cosa facciamo oggi allora oggi andiamo a sfidare maggio ok ah no è vero che è brendone andiamo e intanto faccio le domande allora niki nike ci chiede adesso vi esporerò alcune cose che si è inventato non c'ho voglia è troppo lungo il post ah ecco no non lo leggerò vabbè Simone Olla ci chiede se Zeffo studia giapponese barra lingue orientali Paco cosa studia andrò a studiare l'anno prossimo molto probabilmente ingegneria informatica così siete contenti e potete stalkerarmi bravi ragazzi poi allora Caterina Ciulla chiede sapete di che tipo di colore sia Paco opaco eeeh Marco Tosoni ci chiede a parte Avon qual è la vostra best waifu lard pensavo Yuri ma Yuri che pare ce l'hanno tutti Yuri è la waifu delle genti scusa eh lo so ma la mia è lard va bene bravo glielo glielo faremo sapere allora lo sa già ok parlando di Yuri Estolesto ci chiede volete una pizza anche due se sei tu a portarle ragazzi c'è la pizza d'accordo Blackishita ci chiede conoscete Tokyo Ghoul cosa ne pensate non sono un grande fan del genere neanch'io però ho visto la prima e la seconda stagione la prima è carina la seconda non ho capito dentro niente e non mi è piaciuta chiedo venio scusa ok è la terza volta che sono paralizzati entrambi ho capito sta zitto no quando friate le boobs mai Maverickblast chiede preferite Claudio Torres come hacker o Bishop come collaboratore di Zeb questa è una bella domanda non è vero io rispondo subito come Bishop come collaboratore di Zeb anzi mi sa che l'ha già preso come collaboratore visto il gioco che ha fatto darky701 ci chiede cosa ne pensate di Golden Sun non ci ho mai giocato continuo a chiederselo e continuo a dire che non ci ho ancora giocato hai giocato giusto al primo quindi post scriptum avete notato che la schermata del titolo di Pokemon Jupiter è ripata proprio da Golden Sun beh io si no perché non ci ho mai giocato esatto Andrea Anikas ci chiede il videogioco più strano che avete mai giocato il videogioco più strano Demolition Girl cosa ho giocato dovrei aprire la mia libreria di Steam perché probabilmente è lì che ci sono i peggio titoli però al momento sto a registrare esatto magari vi faccio un video sulla mia libreria di Steam allora Feng QG ci chiede prima hack giocata Shining Gold io rubi Destiny io rubi Destiny Reign of Legends si cominciava bene piuttosto che cominciare con Maror Merda Gold Fox 98 chiede cosa ne pensate di Cydonia ancora ma ancora si fa sta domanda si si fa ancora ma basta eh orrei devi rispondere una volta per tutto non so cosa dire non mi fa né caldo né freddo e anche a me tratta questioni di cui o mi interessa poco o non mi interessa proprio per dire l'ho anche aiutato a fare un video ho passato del materiale per fare il video sulla lenza quindi non è che Christian Corsi chiede ma è fare emblema l'anus journey è davvero un hack che sta creando o Paco voleva solo farci vedere quanto è bravo a fare le hack a parte che non era un hack ma no no era un rpg a parte questo era un progetto che volevo fare che ho accantonato però ce l'ho ancora qui volendo in un futuro lo posso anche riprendere e sempre Christian Corsi ci chiede come faccio ad essere bello come voi beh allora per essere bello come noi devi essere non devi essere bello perché noi non siamo no 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 devi essere bello come Raulo bova 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 ah Pietro T ci chiede miglior mystery dungeon il mio è esploratori del cielo idem idem sicuramente il migliore poi 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 emilio il figo ci chiede cosa ne pensi delle whatsapp stories io non aggiorno whatsapp da mesi perché non me ne frega un cazzo i whatsapp non lo uso quasi mai tra parentesi telegram è meglio è meglio sono gli stickers a proposito di telegram seguitici fuschio ci chiede animale preferito gatto 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 garbo d'orgiginca ci chiede mi date un biscotto ok ok quale e non lo sapremo mai lo sapremo nella prossima puntata le domande sono finite ma sbaglio queste domande le abbiamo dette con uno scazzo io cercavo di dirle bene colpa tua che mi trascini nello scazzo totale io non ho dormito bravo nessuno ti ha detto di registrare oggi vado a battere valtiero comunque dovevo ripassare perché io differenza tua devo studiare e anche io devo studiare che cazzo significa non è vero tu vai a scuola e che cazzo significa ho ancora più mattini di te cretino vuoi fare scienze delle merendine scusa e quando andrai a scuola se vuoi vado a fare la scuola delle badanti che ne so esatto una roba del genere quello che si chiama facoltà delle merendine che cazzo stai dicendo giuro ma stai zitto si ma non la faccio io se faccio uno scientifico non faccio la scienza delle merendine chi lo dice la scienza perché non lo stai zitto porca puttana il cane ha imparato finalmente scintilla la buon'ora vabbè allora volbit lo mettiamo via ho vinto ora ti picchio e te ne vai e ho brilum succa ecco succa yeah traps evolve è diventato una bellissima ballerina un ballerina ok vai a fanculo te e il tuo maledric hai vinciuto io vado a prendermi spaccroccia ok vado a prenderlo anch'io poi terminiamo la puntata da questa parte ecco la sputu si yeah dunque la insegniamo a a zaino lo strumento a agulo e direi che per oggi può bastare e ci rivedremo al prossimo episodio mi raccomando con le domande e addio ciao amici ciao amici